Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Ricordiamo che in FIPILI sono in corso lavori di miglioramento all'altezza del turbone tra Montelupo e Ginestra, possibili disagi. Sempre in FIPILI, oggi e domani, per lavori di ripristino della pavimentazione, è prevista la chiusura della carreggiata tra il km 79,7 e il km 79,3,50 in direzione Firenze nel ramo di Livorno. Uscita obbligatoria in corrispondenza della rampa R3 dello svincolo di Livorno-Porto. Il provvedimento è in vigore in orario 8-18. Siamo al traffico urbano di Firenze. Vanno avanti i cantieri Lungarnacciaioli, Via dei Serragli, Via Cerretani, Via Panzani, visto il forte calo del traffico a causa dell'emergenza sanitaria coronavirus, è stato varato dal comune il piano asfaltature e ripristini. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!